Penso che chi ha il privilegio di fare ricerca scientifica come me deve avere un atteggiamento umile, deve essere umile rispetto alla dimensione dei problemi, deve essere umile rispetto ai dati, quando i dati ci contraddicono dobbiamo accettare che i dati ci contraddicono, dobbiamo accettare le critiche dei nostri colleghi e confrontarci in modo critico, dobbiamo accettare che i nostri giovani, i giovani nel mio laboratorio di là ci mettano in discussione perché questo fa bene alla ricerca scientifica, dobbiamo essere umili nei confronti della sofferenza dei pazienti e pensare sempre alla sofferenza dei pazienti, dobbiamo essere umili rispetto ai tecnici che abbiamo nei laboratori, i miei tecnici sono straordinari, sono il corrispettivo presente dei guarnieri del Gesù, degli stradivari, delle botteghe che hanno fatto grande e bello questo paese, quindi nessun vanto per il fatto di essere un professore, ma rispetto nei confronti di questi che sono dei veri e propri maestri e infine l'umiltà nella comunicazione scientifica, spero di non avere peccati d'orgoglio, un grande pensatore, un filosofo della scienza che era Karl Popper diceva che uno scienziato ha il dovere di comunicare nel modo più semplice, più comprensibile e più umile possibile le proprie scoperte e quello su cui lavora la società nel suo insieme sta a voi giudicare se io lo faccio bene o no.